Ci siamo messi al servizio della comunità quando non era possibile fare le nostre normali attività durante il lockdown, stiamo cercando di lavorare con le scuole, si parla oggi molto di scuola primaria, quindi anche lì sono tante cose, quindi mi porto dietro, vi direi una cosa sola, la soddisfazione di aver fatto qualcosa di buono. Nozze di diamante per il Panatron Club Arezzo che ha celebrato il sessantesimo anniversario. 60 anni sono tanti, però siamo un club ancora estremamente vivo, ci hanno aiutato tanto quelli che sono passati prima di noi e che hanno seminato molto bene, noi continuiamo sulla nostra strada. Un traguardo importante festeggiato nella sala dei grandi del palazzo della provincia di Arezzo alla presenza di autorità del Panatron e dei rappresentanti delle istituzioni con il patrocinio della provincia, del comune e del coni. I tempi sono cambiati, siamo passati attraverso tante problematiche, non ultimo la pandemia, il lockdown, che ha cambiato un pochettino tante cose, il modo di fare. Noi continuiamo nel nostro piccolo a renderci utile, cerchiamo di renderci utile al movimento sportivo della città, un movimento a 360 gradi, occupandoci sia dello sport di eccellenza ma anche dello sport di base, con un occhio di riguardo puntato verso i giovani, verso i bambini, perché è da lì che parte tutto, quindi tra saper trasferire, aiutare a saper trasferire dei concetti sani del fair play, del rispetto delle regole, del rispetto degli altri, della lotta al bullismo, parliamo di integrazione, di inclusione, quindi sono tutti quei problemi che oggi giocano un ruolo importante perché sono estremamente formativi per i nostri ragazzi.